E sono sicuro che al 100% tutti lo sosteneranno e lui si sentirà questo calore del pubblico italiano. Carlo per favore aiutami te, ma i fischi sono ingiusti, perché ricordiamolo, anche i piloti che corrono con un altro team o corrono per team minori, fanno una fatica della Madonna per due ore e un quarto, lavorano tutti i weekend fino alle 10 di sera. In pista ci sono piste che sono difficilissime, deve avere una concentrazione della Madonna, guidano macchine che vanno a 340 all'ora, veramente, sentire i fischi dopo che fai un buon risultato è una roba deludente, perciò dobbiamo migliorare in questo. Ti vengono abbiati i fischi te? No, è una roba che mi dà fastidio quando un mio avversario, un mio concorrente, o magari uno anche che mi batte, viene fischiato, è una cosa veramente giusta, mi piange il cuore mai su queste cose. Carlo vuoi aiutarlo? Magari essendo meno vehemente? Hai capito perché devo aiutarti? Perché si fischiava.